Ci troviamo a Macchiagodena dove la cittadinanza ha riconfermato per la seconda volta consecutiva il sindaco Felice Ciccone. Allora sindaco che sapore ha questa riconferma? È stata una battaglia difficile, erano in competizione tre liste all'interno di un paese di 1200 elettori, quindi 33 candidati, rapporto elettorato attivo-passivo molto forte, quindi è stata una battaglia difficile. L'abbiamo spuntata noi per una quindicina di voti, siamo in attesa della proclamazione. Spero che da domani in poi si possa lavorare per rimettere insieme il paese. Ecco, un paese che però in questi cinque anni ha fatto tanti progressi, ricordiamolo tantissime le iniziative a livello turistico, a livello culturale, a livello economico e portate avanti dalla sua amministrazione. Si deve proseguire su questo passo? Sì, questo è l'obiettivo, a dire il vero sono dieci anni che lavoriamo, questo è il terzo mandato, abbiamo provato a distinguerci su tematiche importanti come la cultura e come il turismo, abbiamo avuto dei buoni risultati e contiamo di continuare in questa direzione. Grazie.